Scappa, scappa, salvo 5.0 Scappa, 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 salvo 5.0 Scappa, scappa, scappa la diretta con il suo nome andrà Cari amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, benvenuti, bentornati su salvo 5.0.tv Siete collegati in diretta, con questo mi scappa la diretta estemporaneo non programmato fra l'altro oggi avendo fatto una diretta di oltre 4 ore in collegamento da Londra ero veramente stanco ma ho letto una notizia che meritava assolutamente attenzione quindi voglio fare un mi scappa molto breve, 5-6 minuti non di più per esprimere tutta la mia solidarietà al mio amico Alessandro Di Battista nonché nostro rappresentante, nostro portavoce al Parlamento italiano Bene, la notizia che ho visto sui giornali, sul Fatto Cotidiano in particolare è questa, praticamente Di Battista dichiara basta con queste merde, non mi ricandido e quindi dice che se si andrà avanti fino al 2018 non voglio tornare in Parlamento, voglio fare il reporter ok? Allora, carissimi amici, ma voi vi rendete conto della fortuna che ho avuto io? cioè di essere già reporter, ho già realizzato un sogno che fra l'altro mi era nato da poco, diciamo da circa due anni era più o meno ottobre, novembre del 2012 quindi esattamente due anni ecco, io ho già realizzato il sogno di essere reporter completamente libero, completamente indipendente e non sono costretto a frequentare le merde di cui parla il nostro caro amico Alessandro Di Battista e sappiamo tutti quali sono le merde di cui parla beh, io dico una cosa già quando è uscita la decisione della consulta che ha detto che la legge elettorale con cui questa legislatura si era affermata è non costituzionale io avevo detto ragazzi, dimettetevi tutti in massa poi mi è stato spiegato che tutto questo non era possibile non si poteva fare per tutta una serie di ragioni che onestamente non ho capito ma non ho voluto neanche approfondire ho preso, ho dato prescontato che non ci si può dimettere però ho detto ma che cosa ci fate ancora lì dentro? cioè, va bene, risparmiate 300 mila euro a testa di stipendi d'accordo, tutto onorevole, tutto stupendo ma poi, a che cosa serve tutto questo? abbiamo risparmiato tanti soldini certo, se al posto dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ci fossero stati altri parlamentari questi soldi sarebbero rimasti nelle tasche dei parlamentari invece adesso si trovano in qualche conto per dare aiuti alle PMI, alle piccole e medie imprese in un modo che non ho ancora capito perché temo che ci siano comunque ancora di mezzo le banche ma in ogni caso, comunque, è un atto onorevole quello di rinunciare allo stipendio e comunque poi ci sono i 42 milioni di rimborsi elettorali eccetera eccetera quindi, per carità, tutto stupendo ma alla fine, qual è stata l'utilità di rimanere ancora lì dentro? non si è più parlato di sovranità della moneta da parte del popolo cioè di proprietà della moneta al momento dell'emissione caro Alessandro tu lo sai quanto sono importanti questi argomenti e purtroppo non se n'è più parlato è dal 2007-2008 che il Movimento 5 Stelle non parla di queste cose cioè da prima di diventare un soggetto politico nazionale e questo è un vero peccato quindi io capisco la frustrazione state lì in mezzo a quelle merde e sono pienamente d'accordo con te, caro Alessandro e che cosa ci state a fare? che cosa riusciamo a risolvere? uscite in piazza io l'ho già detto, Alessandro il 23 ottobre quindi un mese fa esatto domani sarà passato un mese da quando io ho fatto il mio messaggio di outing diretto, indirizzato all'attenzione di Beppe dicendo Beppe vogliamo prendere in mano la questione dell'euro e della gestione della moneta del sistema monetario truffaldini in cui ci troviamo vogliamo parlare veramente di queste cose che sono cose serissime altro che tutte le cazzate di cui sono costretti a parlare i poveri nostri amici deputati alla Camera e senatori al Senato quindi tutti fuori rimanete magari dieci a presidiare dieci alla Camera e dieci al Senato giusto per evitare che facciano proprio di quelle sporche cose sporche 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 tutti gli altri fuori in piazza a spiegare alla gente perché bisogna cambiare sistema monetario perché bisogna fare una moneta nazionale una banca nazionale in modo tale che le banconote stampate e i soldi elettronici creati siano di proprietà del cittadino subito al momento dell'emissione e quindi mandiamo a gambia all'aria questo sistema bancario che occulta duemila miliardi di euro all'anno solo in Italia solo unicredit cinquecento miliardi all'anno caro Alessandro quindi ti capisco io sono molto più fortunato di te perché sono già reporter cioè quello che tu vuoi fare dal 2018 in poi se la legislatura tiene perché invece non ho capito se invece si va a votare l'anno prossimo probabilmente ti ripresenti da quello che ho capito non so se il fatto quotidiano ha pubblicato bene la cosa dice se si va avanti fino al 2018 non voglio tornare in Parlamento quindi se invece si riva a votare nel 2015 a quello punto ti ricandidi quindi io sono molto più fortunato di te perché poi 2015 più 5 si va al 2020 addirittura io sono già reporter posso già fare informazione oggi libera e indipendente posso parlare con orgoglio del professor Giacinto Auriti che è un monumento di sapienza un monumento di onestà di sagacia che tutta l'Italia dovrebbe apprezzare ogni giorno e quindi già oggi sto facendo quello che tu caro amico mio Alessandro vorrei fare dal 2018 quindi ti esprimo tutta la massima solidarietà mi sento veramente fortunato e mi dispiace molto per te che sia costretto a stare lì ancora fino al 2018 probabilmente o addirittura se ti dovessi ricandidare nel 2015 2016 fino al 2020 o 2021 per fare cosa poi niente purtroppo ormai l'abbiamo capito le istituzioni imbrigiano qualunque cosa anche la più buona anche la più positiva il Movimento 5 Stelle si è fatto imbrigliare dal sistema non sta parlando dei temi veramente importanti non ne parla non può farlo perché probabilmente se lo facesse le minacce che sono state fatte sicuramente ai vertici del movimento verrebbero messe in piedi verrebbero messe in pratica ecco quindi ecco perché purtroppo di questi temi non parla più neanche il Movimento 5 Stelle e allora veramente mi raccomando mi raccomando scendete subito nelle strade nelle piazze lasciate dieci a presidiare la Camera e dieci a presidiare il Senato e poi tutti giù in mezzo al popolo a spiegare i temi veramente importanti e lasciate che tutti gli altri lì in Parlamento si fottano perché tanto non serve a niente ormai lo abbiamo capito caro Alessandro ti aspetto qui nell'arena dei reporter liberi indipendenti spero che tu possa realizzare il tuo sogno al più presto sogno che io invece ho già realizzato e di questo sono veramente felice e anzi mi sento un po' in colpa nei tuoi confronti un abbraccio a te Alessandro un abbraccio a tutti gli italiani cari amici mi raccomando l'informazione è importante divulghiamo i temi veramente importanti i temi che purtroppo alla Camera e al Senato non possono essere affrontati in modo serio dal Movimento 5 Stelle così come vorrebbe secondo me è questo uno dei motivi per cui Alessandro non vuole stare con quelle merde che ci sono lì da quelle parti un abbraccio a tutti grazie e ci vediamo prossimamente ciao a tutti grazie ancora scappa scappa salvo 5.0 scappa 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 salvo 5.0 scappa scappa la diretta con solo mandare scappa fa 1.0 scappa larets scappa кнопare os ciao Grazie a tutti